Sarebili nostri, sono bili dei pastori, dei messaggi, come ti sono vivi in questa vita? Come ti sono andati? Tu hai tese erbili, orgogliosi, tutti sarebili nostri. In questa situazione sono cercando di arrivare una nuova forma di vivere, di pastoria o di massaria, o forse non siamo perduti di rimpuso. Se noi pensiamo che viena questa pestulenza, in un'ordine per i suprimis, a forse dobbiamo cambiare viena al modello di vita. E tanto, in tutta la notizia, a forse potete essere viena un'arma potente, oltre al popolamento. O come tu hai pesca, metà gente che ha lavorato in un castello, in una terrazitaria o in una sardina, diceva, beh, tu hai potuto andare in classe, potrai lavorare in domani, dai domani. E io sono convinto che la gente, ommo, non tutti si hanno potuto lavorare, a mancare, a pesare un amico o una vita, non è facile. Però, in prospettiva, un pizzo, io e un giovane si laurea, e vieni su concursi a questa regione, a questa ASLA, una banca, vieni con i privati, e diceva, beh, però tu e si volessi potrai lavorare in domani. E io sono convinto che i miei, a queste persone, a questo giovane, si abbarrano i suoi sardini a lavorare, e tanto vi potete dare spera, ho soppeso a Sardini di Cuglia, tornano a fare i suoi ofizios postali, salbancas, tornano a fare i servutè, e adesso vieni bene e vieni a spro, tanto a omporano già osa da i suoi pastori e dal suo massaggio di soluzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.